musica 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 ma che cazzo musica ciao a tutti matti sono gioco mi è stato tutto bene e spero molto musica musica perché non portare dell'ignoranza estrema su fifa 15 come potete vedere voglio giocare yuno vs roma sapete benissimo quei cinque truppi nel 2014 al 2018 ci sarà il match big fantastic enormous yuno vs roma prima vs seconda e io naturalmente voglio fare un po' un pronostico ma non un pronostico solamente dal punto di vista tecnico tattico ma proprio dal punto di vista fisico perché andrò a giocare Juve vs Roma E andrò a giocare anche se a voi va bene Quindi scrivetelo sotto nei commenti Farò un giro di tutte le squadre Ad ogni giornata, cambierò appunto squadra E farò la partita della giornata Appunto, quante volte ho detto giornata Non lo so, ha una bella giornata oggi Oh si hai proprio ragione, è proprio una bella giornata Vamos Juventus Stadium Porca miseria, ma secondo me Perché non gioca a Tivets Oddio Tivets Dimmi che non è l'uomo Oddio Tivets Oddio Tivets Sì Mamma mia che testata Non ho preso quello lì, avrà avuto un trauma cranico Bellissima diorente, qua me la sbaglia Me lo sento Dai, ma che cazzo Mamma mia, che scatto Superbo e felino, eh RIVOI VAMOS IMPARABILLE IMPARABILLE Dopo questo gol da gallerà 12 etti di shampoo fidala a tutti Vai Licksteiner corri che te C'hai la corsa nelle gambe Grandissimo Licksteiner Grandissimo Guarda 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 Braille Dio E VAMOS AL GOL VAMOS AL GOL VAMOS AL GOL BITO ODIO VAMOS AL GIO Ah, mio camale è la schiera Ah, camale Ma prima vabbè qualcuno che magari prende la palla Ma questo è la cicata di Netto Ma c'è chi per caso non l'oratorio left Arturo Vidal Vediamo se riesce Vabbè Anche Vidal Non ci credo niente Gli arete è riuscito a fare un gol Gli arete L'ha ucciso L'ha ucciso Oddio Oh mio dio sono 5 a 0 signori 5 a 0 5 per Speriamo che non sia così diciamo Dicorosa la partita Vincere ci sta ma forse 5 a 0 è un po' troppo umiliante Sarebbe un po' troppo umiliante per i romanisti Ragazzi fatemi sapere qual è secondo voi Il risultato che avrà la partita Juventus-Roma Facciamolo già in finita Ci si vede Viva le vette